Benvenuti alla rubrica del 97 di Trenadio Stereo, consigli per gli acquisti. Il momento d'oro del calcio francese, non soltanto per il trionfo meritato agli ultimi campionati del mondo in Russia, ma anche per via della continua e inarrestabile produzione di grandi talenti, in tutti i ruoli, dalla difesa all'attacco passando per il centrocampo. Ed è proprio sul reparto di Mediana che vogliamo soffermarci, parlando di un ragazzo che nell'attuale stagione si sta ritagliando un ruolo da protagonista in Ligan, nonostante la giovanissima età. Lui si chiama Aurélien Chouamény, è nato il 27 gennaio del 2000 ed è considerato uno dei centrocampisti più interessanti del massimo campionato transalpino. È un prodotto del vivaio del Bordeaux, nel quale si è formato negli anni sino a diventare un perno delle selezioni giovanili francesi, dall'Under 17, diventando fra l'altro compagno di squadra del romanista William Biandà, all'Under 19. È stato Jocelyn Gourvennet il primo a convocarlo nella prima squadra del Bordeaux, concedendogli qualche panchina nella seconda parte della stagione 2017-2018. Ma l'esordio ufficiale fra i grandi è arrivato soltanto all'inizio dell'annata successiva, quando al timone dei girondini ha prodato un grande ex centrocampista, l'uruguaiano Gustavo Poglie, già pilastro di Chelsea e Tottenham. Chouamény è stato utilizzato nelle amichevoli estive ed inserito nell'undici titolare nei vari turni preliminari d'Europa League, contro i lettoni del Venspils e gli ucraini del Mariupol. E proprio contro il Mariupol, in trasferta, il 9 agosto del 2018, il ragazzo ha trovato il suo primo e finora unico gol nel calcio professionistico, siglando la rete del definitivo 3-1 in favore del Bordeaux. Allora, ancora un ballon recuperato dal Bordeaux, la Gaiton, la Bordeaux, con il suo carriere premiera intenzione, Chouamény. Chouamény! Oh, che fa piacere! Abbiamo visto Koundé, Abbiamo visto Yusuf marcare face a Venspils e l'altra bomba della classe B-Bronne del trio con il jeune D'Auguste Poiet, Aurélien Chouamény, 18 ans e buteur! C'è la vita! Aurélien Chouamény è un centrocampista completo, ha un'ottima struttura fisica, è alto 1,85 per 80 kg, è un'innata intelligenza tattica, efficacissimo in fase di interdizione. È dotato di buon piede e buona tecnica, sa gestire i tempi di gioco in cabina di regia con estrema pulizia nei passaggi, ma sa anche disimpegnarsi nel ruolo di mezzala. Deve lavorare ancora su molti aspetti, la continuità di rendimento e la personalità, ma di lui si è innamorato, oltre a Poiet, anche un altro grande ex centrocampista del passato, Paolo Sousa, tecnico dei Girondini da marzo 2019. Nella stagione in corso, Sousa ha fatto di Chouamény un perno fondamentale e indispensabile del suo reparto centrale e il ragazzo, di settimana in settimana, continua a convincere pubblico e critica.